Passaggio per la villa senza macchine, questo è il Dolomiti Bike Day. Il Dolomiti Bike Day è il brutto natroccolo di quello che è il Dolomiti Bike Day, però conoscete la storia, no? Il brutto natroccolo è diventato un bel cigno. Ecco, questo è Dolomiti Bike Day, secondo la mia opinione, già solo poter passare tra le strade tra San Canziano e la villa senza traffico è una cosa spettacolare. Adesso faremo il passo Campolongo, passo Falsarico e dirle la parola a strade chiuse. Passo Campolongo Primi tornanti del passo Campolongo con pendenze dal 7% all'8%, comunque pedalabile. Come? Comenti sul Valtteri? È bellissimo. Dopo 13 chilometri eccoci arrivati al passo Campolongo ed ora una bellissima discesa verso c'è una roba c'è una roba c'è una roba arriviamo ad Aramba e da Raba proseguiamo per la valle di Levina Longo fino ad Andraz per prendere poi il passo fazzaleco come vedete strade chiuse al traffico ora entriamo a Pieve di Rivina Longo ora entriamo a Pieve di Vida 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 10.30 di Guadena ed adesso ci teniamo sulla sinistra al Bibbio per risalire il falzarego da Andraz 11 chilometri posso falzare qua più uno e mezzo al Valparola Susi non c'è nessun rumore sentite solo fiatone il lago a suoi davanti a noi e noi ci cingiamo a fare l'ultimo tratto del falzarego quello è un po' più ripida quelli con le e-bike li becchiamo in discesa ultimo strampo verso il Passo Valparola l'albero 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 Grazie a tutti 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 Mamma Raffaele e per finire Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti